Si conclude un altro percorso di questo corso di formazione gestito dall'Università di Diritto Internazionale ISFOA in associazione con Medea ODB, associazione che lotta contro la violenza di genere, per il conferimento dei diplomi di operatrici, operatori sociali antiviolenza con specializzazione in gestione dei conflitti al gruppo di Napoli, la cui coordinatrice sarà la dottoressa Flora Sasso. È un momento importante anche perché ci troviamo in una sede dove si svolgono già dei corsi importanti di clownterapia e quant'altro che sarà messa a disposizione proprio dalla tua voce ODB per permettere nel corso dei giorni della settimana di dare appuntamento in orari stabiliti alle persone che hanno bisogno di essere ascoltate sul problema della violenza. Dottoressa Sasso, dove siamo? Come le persone possono arrivare nella vostra sede? Allora, noi siamo presso la stazione ferroviaria di Mergellina, il binario numero 1 e come diceva il dottor Mallamaci, tra poco avremo questo punto antiviolenza dove i nostri diplomati accoglieranno queste persone tre volte a settimana, si metteranno a loro disposizione per qualsiasi problema. La vostra attività principale di base è quella della clownterapia? Sì, noi portiamo un sorriso a bimbi in oncologia pediatrica e quindi non potevamo non aprire al mondo questo servizio.